Vi parlo della spazzola di pulizia viso 5 in 1 Sistema di pulizia della pelle Il sistema di spazzole rotanti elettriche pulisce la pelle 10 volte meglio del lavaggio a mano da solo e rimuove delicatamente i pori ostruiti. L'olio, la sporcizia e altre impurità. Migliora efficacemente la circolazione sanguigna. Rivelando una carnagione liscia. Un perfetto sistema integrato per la cura del viso. 5 in 1 riceverai 5 teste massaggianti con diverse funzioni per soddisfare tutte le tue esigenze di pulizia. 5 diversi detergenti per la pulizia del viso sono utilizzati per la pulizia. Peeling, esfoliante e massaggio. Kit per la pulizia della pelle Perfect Face 1X Spugna morbida in lattice. 1X Spazzolino per accessori in polacco. 1X Pennello per il trucco. 1X Testina per massaggi e 1X Pennello per il viso. Questo kit compatto e facile da usare ti aiuta a godere di massaggi della pelle di grado professionale di pulizia profonda. Lucidatura. Esfoliante e persino antietà. Comodo e comodo le setole lavorate con l'innovativa tecnologia micro renderanno molto più morbido. Evitando graffi e lesioni alla pelle. Usa le spugne per rimuovere delicatamente il trucco o gli oli della superficie del viso. Puoi usarlo con qualsiasi detergente viso o oli essenziali. Goditi la cura del viso di qualità termale a casa. Avviso alimentato da due batterie AA asterisco, non incluse nella confezione, a due velocità. Per dare una sensazione delicata e liscia. Non una pressione nociva sulla pelle. Massaggiatore rotante per migliorare le condizioni del sangue e prevenire l'invecchiamento della pelle. Morbido pennello per ripulire tutti gli aderenti alla superficie. Spugna trucco per massaggiare e pulire la pelle. Accessorio lucidante grezzo per strappare la pelle ruvida e tagliare. Spugna.